per la serie non si finisce mai di imparare adesso ho scoperto la vita serbatica che mi sto prendendo eccola qua grazie ai miei insegnanti guardate quanta roba praticamente un terreno che mi dicevano abbastanza di stagnante perciò ci sono queste piante così che adesso vado a prendere e voilà guardate che foglie belle uno spettacolo è tutto a gratis è come si dice perché la natura è abbondanza che la natura è abbondanza anzi questo fammelo mettere qui prende con un cestino e voilà